Il Salone di Palazzo dei Trecento a Treviso è stato nei giorni scorsi il palcoscenico della cerimonia solenne e toccante di consegna delle 21 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente Sergio Mattarella per riconoscere e celebrare coloro che hanno contribuito in modo significativo alla crescita della società e al progresso del Paese. Evento presieduto dal Prefetto di Treviso alla presenza della sezione Unci della città e di numerose autorità civili, militari e politiche. Cerimonia che è stata aperta dal tenore Francesco Grollo che ha cantato l'inno di Mameli e dalla lettura del messaggio del Presidente della Regione Luca Zaia. Soprattutto per portare avanti questa importante cerimonia che prevede anche il nostro canto degli italiani, il nostro inno nazionale che va spiegato e va detto che è l'unico inno al mondo che ha due protagonisti, il solista e il coro che risponde. Un inno che è stato creato da due patriotti Mameli e Novaro per unire sotto un'unica bandiera le genti italiche, ovvero il popolo italiano e grazie a Dio ci siamo riusciti. Le onorificenze rappresentano un segno tangibile di gratitudine e rispetto per l'importante contributo offerto da queste personalità straordinarie al progresso sociale, culturale ed economico, ha detto il Prefetto Angelo Sidoti durante la consegna dei 21 riconoscimenti. È importantissimo agire per la sostenibilità, aiutare la nostra comunità, condividere gli stessi valori in un momento di difficoltà. Abbiamo difficoltà all'esterno con il conflitto bellico attuale in Ucraina, una possibile crisi speriamo di no in Kosovo e poi all'interno dell'Italia abbiamo da affrontare l'attuazione del piano di residenza ripresa. Abbiamo purtroppo l'ennesima tragedia drammatica dell'Ulvione in Emilia Romagna e tutto questo lo possiamo affrontare unendo le forze, facendo rete perché poi noi italiani siamo splendidi in emergenza. L'OMRI è un riconoscimento di altissimo valore conferito dal Presidente della Repubblica a coloro che hanno dimostrato eccezionali meriti e impegno nella promozione del bene comune. Un riconoscimento inaspettato ma graditissimo che dedico alla mia famiglia che mi ha molto supportato e alle centinaia di dipendenti che ho incontrato in questi 50 e più anni di lavoro che hanno appoggiato...